Buongiorno a tutti, giovedì 23 febbraio, giornata molto interessante a mio avviso soprattutto per il mercato azionario italiano perché ieri per la prima volta da inizio anno c'è stata una sottoperformance del Fuzimib rispetto agli altri indici europei e agli indici americani. Per cui oggi e domani dovremmo verificare se è solo stato un calo passeggero dovuto a una correzione sul settore bancario che era a mio avviso anche fisiologica o se dovesse invece essere più pronunciata perché per esempio questa mattina abbiamo un rendimento sul BTP decennale al 4,46% che comincia a essere una soglia abbastanza delicata. Non perdiamo però altro tempo, riprendiamo dagli indici americani come fatto ieri e ovviamente non c'è nulla di nuovo perché Dow Jones si è mantenuto sopra la media mobile a 132.857, però vedete che si sta avvicinando a quello che è poi il supporto statico fondamentale di breve periodo ovvero 32.581, 32.573 considerato che poi poco sotto a 32.342 transita anche la media mobile a 200. Per quanto riguarda lo standard pure 500 è una spinning top simil doji, la candela di ieri si è appoggiato alla media mobile a 50, 3979 e poi ha chiuso fortunatamente a 3.991. Per quanto riguarda lo standard pure 500 il livello chiave ovviamente per il breve periodo è rappresentato dalla media mobile a 200, 3940. Per quanto riguarda il Nasdaq abbiamo una candela di indecisione, una doji e anche qui dopo un minimo intraday a 11.445 fortunatamente ha chiuso a 11.507, per cui sopra il minimo del giorno precedente che era stato 11.491, come per lo standard pure 500 siamo piuttosto vicini, ancora più vicini alla media mobile a 200, 11.410 e questo è il baluardo che non deve assolutamente perdere. Per quanto riguarda il DAX continua invece il laterale sui massimi, vedete che ormai questo laterale dura addirittura dal 2 di febbraio, per cui finché non romperemo al rialzo 15.658 o rompessimo al ribasso 15.246 continuerà questo trading range. Il CAC è nella stessa situazione anche se aveva già provato a rompere il 15 di febbraio, in questo caso il livello chiave per il breve è 7.200 e la resistenza da superare è 7.387. Euro stocks, situazione simile direi a quella del DAX, il trading range ha come livello chiave 4.173, 4.174 a livello di supporto e a livello di resistenza 4.316. Come vi ho già detto ieri l'SPM futures non ha purtroppo avuto lo stesso andamento degli altri indici europei e dovremmo appunto verificare se è stato un fuoco di paglia o se la correzione può proseguire. Se dovesse proseguire, considerato che, vi metto un attimo, un settimana e così rende bene idea, il livello chiave è 26.765, livello chiave per oggi e domani. Sotto questo livello si aprirebbero degli spazi sicuramente piuttosto importanti, direi almeno fino a 25.885. Però non ci sono ancora le premesse per quello che abbiamo visto finora per un'inversione. Ripeto, al momento, e io sono stato uno dei più scettici su questo rialzo del mese di gennaio e dei primi 20 giorni di febbraio, primi 15 di borsa aperta di febbraio, ma una correzione era assolutamente fisiologica, adesso se si ferma, ripeto, a 26.675, nessun pericolo. Veniamo ai futures, vedete che quelli americani sono positivi, più 0.21 il Dow, più 0.40 lo standard per 500, più 0.74 il Nasdaq 100, più 0.31 il Russell, il DAX sta facendo più 0.39, noi abbiamo aperto più 0.14 e l'Eurostox più 0.28. In Giappone, in Nikkei, oggi Class CNBC, Caffè Affari l'ha messo come chiuso per festività, qua dice che negozi e fa meno 0.04, comunque, vediamo Hang Seng di sicuro è aperto, più 0.36, China Share più 0.78, Singapore meno 0.66, Cospi più 1.36. Veniamo al calendario economico, oggi ci sono sicuramente molti più dati importanti, il principale direi è l'inflazione, indice prezzi al consumo in Europa, 8.6 atteso, quello annuale, quello mensile meno 0.2 e poi ci sono i dati americani, delle 14.30, il trimestrale per il quarto trimestre atteso 2.9, le richieste iniziali sussidi di disoccupazione 200.000 e poi, beh, le scorte di petrolio. Ieri, devo dire che anche le minute poi non hanno fatto chissà quale effetto ai mercati, intendo dire del board della Fed sulla guidance per i tassi. Veniamo alle notizie regolamentate sulle società quotate. Oggi si parte sicuramente da Eni, vengono battute prima dell'apertura del mercato queste notizie, per cui in questo caso il CDA ha deliberato l'estibuzione dal terza transito di dividendo sul 2022, pari a 0,22 Euro per azione e non c'era ancora il bilancio che vi ho aperto. Allora, io me lo leggerò in dieci minuti, non appena terminerò la registrazione di questo video. E' sicuramente molto buono, perché vedete che comunque termina l'esercizio del 2022 con un utile a 13 miliardi, da 4 miliardi 330, però voi dovete vedere sempre questo dato, per capire se è un bilancio a prova di bomba, nel senso che poi il mercato lo prende come vuole. Però in questo caso parliamo dell'EPS 0,74. Se andiamo a vedere in questo, prendo investing perché è un po' più immediato, e andiamo qui nella sezione utili, vedete che c'è per Eni un EPS previsto a 0,765, e ritorniamo qui, ed è 0,74, quindi attenzione che bilancio, ripeto, eccezionale, anche il quarto trimestre sul quarto trimestre, 2 miliardi e mezzo, da 1 miliardo e 7, però l'EPS è inferiore alle stime, l'utile per azione. Per cui vediamo come reagirà il titolo in borsa, perché non necessariamente è un rialzo scritto, perché magari il mercato si attendeva ancora di più. Quindi, primo livello da tenere, media mobile a 50, 13,98, abbiamo un gap da chiudere a 13,906, e comunque non dovrebbe perdere il minimo del 6 di febbraio, 13,614. In caso di ripartenza, primo target 14,39, 14,408, e poi 14,69. È uscito ieri a borsa chiusa il bilancio di Pirelli, archiva 2022 con ricavi utili in crescita a doppia cifra, alla luce dei risultati conseguiti dello scenario previsto a livello macroeconomico, indica gli obiettivi per l'anno in corso. In realtà, in Tradei, il titolo è andato a fare un nuovo minimo di breve periodo a 4,748, per cui, vedendo questo grafico, non ci si dovrebbe stupire se tornassi in area 4,50, considerato che poi pochi tic sotto transita anche la media mobile a 50. Bisogna vedere anche qui se invece il bilancio oggi risolleverà il titolo, e a quel punto primo target 4,93, 4,96 e poi 5,062. Stellantis ieri ha dato i dati in apertura di mercato, ha chiuso il rialzo di oltre 2% in borsa dopo aver annunciato utili superiori all'attese. In realtà ha fatto un nuovo massimo di periodo a 16,412, ma ha chiuso a 16,21,8 con una doji. Allora, stop profit sotto 15,732, ieri praticamente è andata quasi a target sulla candela settimanale della prima di marzo del 2022, il target per oggi è almeno 16,55. Poi Safilo ha ufficializzato ai sindacati di non ritenere strategico lo sito produttivo di Longarone, in provincia di Belluno, che potrebbe essere venduto a un operatore del settore. Allora, non è ovviamente una buona notizia, però il mercato è abbastanza cinico in questo senso. Purtroppo sono girati anche i video di protesta dei dipendenti, perché hanno ovviamente paura di perdere il lavoro. Però, molto spesso queste notizie vengono prese anche in maniera positiva. Il titolo è un bivio, perché è arrivato vicinissimo alla chiusura del gap lasciato aperto sul massimo del 3 di ottobre a 1,31,3. Ieri ha fatto 1,32,6, ma poi ha chiuso a 1,34,3. Se tiene questi livelli, un rimbalzo fino alla media mobile a 200, 1,41,4, e poi sino a quella a 100, 1,47, lo può tranquillamente fare. Per questa mattina ho concluso, vi aspetto dopo le 11 su Class NBC. Auguro a tutti buon trading. Ci sentiamo dopo la chiusura del mercato diurno.